Ovviamente potete partire sempre in dropshipping per testare il mercato, l'offerta e così via, anche se avete un prodotto molto custom, unique, con un'offerta unica, con una creatività unica. Vi consiglio sempre di partire direttamente così, però ovviamente potete anche testare in drop e poi passare, andare a customizzare leggermente il prodotto e passare appunto a questa tipologia appunto di fare e-commerce che è quella che preferisco e quella che funziona e principalmente funzionerà da oggi in poi.